13 maggio 2016 ben ritrovati cari telespettatori siamo di nuovo insieme anche questa mattina ed è sempre un piacere rivedersi passare qualche minuto davanti a una buona tazza di caffè un cappuccino per chi ci segue al mattino in diretta prima di andare al lavoro e prima di riprendere la giornata lavorativa per chi magari ci segue alle 13 e 30 e ha già pranzato allora dunque cominciamo dal santo di oggi oggi è la beata vergine maria di fatima che è una santa che voglio dire una ricorrenza straordinaria è una ricorrenza che in tanti oggi ricorderanno con devozione il 13 era il 13 maggio del 1917 quando lucia francesco e giacinta tre ragazzi di 10 9 e 7 anni di un paesino di nome fatima in portogallo videro su un leccio una signora tutta vestita di bianco più splendente del sole e loro raccontano che il suo volto era molto bello dalle mani giunte in atto di preghiera il sole è sorto alle 5 e tre quarti tramonterà le 20 e 25 minuti il tempo il tempo per oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con nuvolosità nelle zone dell'entroterra deboli precipitazioni lungo il crinale appenninico ed occasionalmente anche altrove le temperature sono senza variazioni di rilievo per la giornata di sabato domani 14 di maggio la giornata si presenta un po' perturbata avremo delle deboli precipitazioni più probabili nell'entroterra sporadiche altrove le temperature senza variazioni domenica ecco qua domenica chi aveva in programma di fare magari di prendere la prima tintarella approfittando del sole purtroppo dovrà regolarsi di conseguenza perché sono possibili rovescio temporali inizialmente sparsi nel settore nord della regione quindi in provincia di peso urbino in transito dalla mattinata verso i settori meridionali dove invece risulteranno maggiormente diffusi e più insistenti i fenomeni saranno in esaurimento nel settore centro settentrionale solo dal primo pomeriggio o dalla serata nel settore meridionale attenzione anche eventi di brezza tesa orientali sono moderati lungo la fascia costiera l'inizio invece della prossima settimana sarà con condizioni di variabilità con alternanza di episodi di instabilità a sprazi di cielo sereno e insomma sarà ancora un maggio un po così pazzerello con un po di pioggia e un po di sole allora abbiamo i giornali questa mattina come sempre nella nostra edicola virtuale cominciamo dal messaggero l'edizione di pesaro in apertura le unioni civili c'è il primo sì a pesaro tra due uomini tra due persone dello stesso sesso stiamo parlando dello storico dj obi bagazzoli che dice finalmente ufficializzerò la mia storia con paolo il sindaco matteo ricci gongola tutto contento dice e sarà lì sarà lieto di celebrare la cerimonia centro pagina la fiction che si sta preparando e che verrà girata a pesaro e urbino la fiction su luci annibali adesso la produzione di questa di questo film cerca come si fa di solito le comparse no e quindi se volete partecipare per chi vuole partecipare c'è questo casting per questa fiction che si terrà mercoledì prossimo 18 maggio in via gavardini in centro a pesaro sotto un processo che riguarda sette medici dell'ospedale di pesaro dopo che una donna di 75 anni che si era operata a un prolasso vaginale dopo 12 giorni è morta per setticemia adesso c'è questo processo per loro l'ipotesi di reato è di omicidio colposo ieri mattina si è svolta una prima fase dell'incidente probatorio con i periti le pagine interna andiamo sulla pagina delle marche del messaggero si parla di bilancio la giunta regionale trova oltre 90 milioni di euro per i trasporti e per il sociale c'è stato un vertice di maggioranza via libera alla variazione del 23 maggio scintille del presidente pettinari di macerata sui fondi da trasferire l'impegno sarà triennale altri 53 milioni saranno disponibili per l'assestamento anche sulle pagine interne viene sviluppato meglio l'articolo che riguarda le unioni civili a pesaro liberi di dire sì e lo faremo a pesaro unioni civili la soddisfazione dello storico dj c'è anche un precedente tra l'altro mi pare anche lì con un altro dj il precedente è quello di fano finalmente posso dire che la mia famiglia è riconosciuta ora paolo ed io ufficializzeremo legalmente la nostra storia andiamo invece adesso sull'altra pagina del messaggero poliziotta suicida il marito adesso finisce nel mirino delle indagini da accertare l'eventuale sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia nella forma aggravata che induce a togliersi la vita stiamo parlando di quel fatto avvenuto la mattina del 9 luglio del 2014 quando una poliziotta maria rosaria caruso di 47 anni si è sparata un colpo alla tempia nel suo ufficio in questura in centro a pesaro per la partita per l'ospedale nel senso che i comitati e gli ambientalisti si stanno organizzando per il corteo di domenica mattina l'appuntamento è a fosso sei ore un sì e due no nella partita per l'ospedale da pesaro e da fano in bicicletta per raggiungere il presidio che si terrà nell'area dove è previsto il nosocomio unico la maggioranza a fano boccia invece il referendum ma i promotori mettono in guardia la giunta la pagina di fano del quotidiano romano mette in evidenza in primo piano gli espropri proteste da tombaccia belgatto altre famiglie rischiano di trovarsi con rotatori e strade e traffico proprio sotto le finestre di casa e dunque non ci stanno protestano la battaglia di don marco polverari sta facendo proseliti diversi residenti nei quartieri interessati lo hanno contattato polemiche anche per il tracciato della futura complanare da realizzarsi praticamente parallelamente alla 14 ieri che ha seguito il nostro telegiornale ci sono le repliche anche alle 11 e alle 13 e 45 circa di oggi potrà vedere anche con la cartina sotto mano e con i tecnici del comune insomma come più o meno verranno realizzate queste opere compensative della 14 ci sono le serpi invece tra i loculi del cimitero dell'ulivo e i visitatori chiedono la disinfestazione diverse lamentele per la presenza dei rettili avvistate anche nel parcheggio cambiamo giornale adesso apriamo il corriere adriatico il giornale delle marche la pagina di pesero è sulla scelta inconcepibile del luogo dove è stato scelto di costruire il nuovo ospedale che dovrà servire poi le due città di pesero e fano tutti a vosso sei ore l'appello a cittadini e amministratori da parte dei promotori e degli aderenti delle manifestazioni di domenica che si terrà alle ore 11 l'invito rivolto a favorevoli e contrari all'ospedale unico no al sito no ai fondi privati sì invece alle scelte condivise la pagina di pesero e urbino per la polizia nessun rinforzo durante l'estate frega sollecita la politica così non potremo garantire la sicurezza delle notti estive grande abnegazione da parte nostra ma con questi numeri a disposizione noi non ce la facciamo davvero più la pagina di fano invece è sul sulle sulle elezioni di domenica prossima domenica si vota per eleggere il consiglio dell'ente carnevalesca tante idee per il rilancio ma niente guerra pacassoni avanti coi carri che è il nome di questa associazione che raggruppa 12 candidati che qui nella fotografia del Corriere Adriatico sono in maschera ebbene sono in corsa questi 12 candidati per il nuovo vertice della carnevalesca per il comitato dovranno essere valorizzati i carri allegorici lo spettacolo tornando ad attrarre i fanesi mentre un altro carrista storico resta i fuori del coro si tratta di Sorcinelli Sorcinelli che dice quello di pacassoni avanti coi carri è comunque un progetto limitato poi sotto si parla della dura reazione del movimento referendario alla bocciatura della mozione popolare contro Marche Nord ora lavoriamo al referendum discussione patetica e interventi contradditori nella foto Renato Claudio Minardi e Riccardo Severi ancora la pagina di Fano del Corriere disagi per l'asilo estivo Mascarin l'assessore dice ci sarà alcune mamme sono senza servizio protestano per l'investimento in computer replica dell'assessore poi famiglie soffocate dalla strada interrogazione dei 5 stelle il sindaco accusato di non risolvere il problema sempre sulla pagina di Fano domani a mezzogiorno il gruppo di Facebook ha organizzato un flash mob per sostenere il ritorno in palinsesto al mattino di Francesco per tutti insomma scito a Radio Fano e andiamo sull'altra pagina di Senigallia del Corriere Adriatico i carabinieri chiudono le indagini sul rogo alla scuola Marchetti resta senza colpevoli questo rogo nel mirino dei piromani l'ex preside Baioni a carico di ignoti anche le indagini aperte alcune mesi prima a seguito del crollo del controsoffitto della palestra andiamo adesso e cambiamo giornale passiamo al Corriere scusate al resto del Carlino la pagina di Fano del resto del Carlino interviene e parla pubblica la notizia di questa donna che ha partecipato a chi l'ha visto e che dice anch'io schiavizzata da quell'Alessandro e spunta una vittima fanese la testimonianza shock di una trentenne mi ha devastata, desideravo morire, ho paura anche solo a ricordare questa è la vicenda Alessandro, trentenne di Senigallia, accusato di riduzione in schiavitù, violenza sessuale e induzione al suicidio due sue ex tra cui una fanese adesso l'accusano mentre la moglie lo difende Jessica non va creduta ma protetta come Chiara e l'altra ragazza di Fano davanti alle telecamere di chi l'ha visto l'altra sera l'avvocato della famiglia Bertolini che si chiama Roberto Paradisi si è lasciato scappare che c'è una terza donna tra le presunte vittime di Alessandro, questo trentenne di Senigallia che appunto è stato rinviato a giudizio con le accuse di riduzione in schiavitù e nella pagina di oggi del resto del carriero di Fano potrete vedere e leggere tutta la ricostruzione poi c'è una tragedia che invece per fortuna si è conclusa diciamo possiamo dire bene perché guardate qui la macchina che volo che ha fatto, un volo e una tragedia sfiorata una macchina che è finita nel fosso, la conducente un peruviano Chiro Chiroz Gonzales residente italianale di Serrungarina alle 6.45 di ieri mattina lui ha 43 anni, è volato giù dalla strada, è finito su questo fosso pensate che non sapendo dove si stava trovando perché poi lui ha chiamato i soccorsi ha chiamato lui direttamente con il cellulare dalla macchina ma non sapendo dove si trovava in quel momento ha lanciato l'allarme ha dato delle indicazioni un po' sommarie e poi per fortuna è stato trovato grazie all'elicottero che dall'alto ha intravisto questa macchina rossa tra la vegetazione ma era veramente in una posizione incredibile e quindi è andata bene ma insomma poteva essere davvero una tragedia anche qui la pagina di farlo del resto del carlino si occupa delle votazioni di domenica per la nuova ente carnevalesca Gian Marioli libera di contestare Cecchini dice lei carnevale l'ex braccio destro del presidente ora con i Pacassoni replica a Jox che sarebbe appunto Sorcinelli che insomma ha detto no non mi rappresentano Fabiola Pacassoni lavoro sottopagato sì ma è meglio che buttare tutto all'aria sul Galà dei Commercianti invece c'è attesa per lo show che si terrà al Teatro della Fortuna lunedì 23 maggio alle ore 21 allora andiamo siamo in chiusura anche qui c'è la protesta la protesta per le opere compensative alla 14 non si placca l'ira degli espropriati una rotatoria proprio sotto la finestra dopo tombaccia solo azione nei quartieri Belgatto e Sant'Orso paghiamo l'ici come se fosse terreno edificabile ma società autostrade lo valuta invece come agricolo tutto questo perché naturalmente un terreno agricolo costa molto meno che un terreno edificabile madre e figlia invece spacciavano con la bambina arrestata a Cagli marocchine residenti in città sorprese a Ravenna dalla polizia con 60 grammi di cocaina una è ambulante regola perquisita anche la loro abitazione a Cagli credo che non ci sia altro per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi voglio soltanto chiudere con dicendovi che dal 18 maggio dal 18 al 23 maggio questa è la locandina che abbiamo preparato andiamo come sempre come facciamo tutti gli anni in pellegrinaggio a Međugorje in Bosnia e Zegovina un bel pellegrinaggio oggi visto che è la Madonna di Fatima ci mettiamo anche la Madonna di Međugorje insomma ecco quindi chi vuole ancora abbiamo credo qualche posto pochi in realtà sabato domani dopo domani si chiudono le iscrizioni 390 euro questo è il costo dal 18 al 23 maggio tutto compreso la quota comprende chiaramente il viaggio in pullman la sistemazione in nave in cabina il pullman sempre a disposizione le tasse aeroportuali il soggiorno in hotel 3 stelle in pensione completa e naturalmente l'assicurazione medico e il bagaglio l'organizzazione tecnica è dell'agenzia Opera Mariana Pellegrinaggi di Fano per informazioni oppure se volete iscrivervi potete chiamare la segreteria di Fano TV è tutto noi ci vediamo stasera per il telegiornale grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti